In ogni situazione abbiamo la maschera d'occasione, per cui difficilmente nella vita siamo autentici come dovremmo. Spesso in noi domina l'impulso, la pigrizia o il tornaconto. Raramente cogliamo l'essenziale perché non riusciamo ad osservarci così come realmente siamo. Il mondo delle apparenze, come fugaci e volati di nubi, nasconde la sostanza dell'esistenza, la quale è ben altro da quella che immaginiamo solitamente. Quando dopo aver recitato artificialmente la nostra parte ci prendiamo una pausa ritirandoci da solitari, lontani dall'ipocrita platea, e ci togliamo le maschere d'occasione, allora cominciamo ad intuire qualcosa della vera vita, cioè che tutto è solo un contorno a ciò che è davvero essenziale, ma l'essenziale richiede la fatica di essere se stessi.